Pronto! Questo è il set, questo è il set, è quello là nello schermo, sono io e oggi... Oh, scusate, sto registrando? Non lo so. Sto registrando? Sì, sto registrando. Allora, oggi sto facendo questo video in cui recensisco la GoPro 7 e ha un inception in realtà. Questo è un altro vlog che sto girando, lo troverete in un altro video. Oggi invece vorrei rispondere alle vostre domande. E quindi, per cominciare, tiro fuori Instagram, leggo le domande che mi avete inviato e risponderò alle vostre domande il più veloce possibile, senza averle preparate, quindi la qualità non è proprio delle migliori, dei migliori, però sarò molto genuino, onesto e veloce e spedito. Allora, Ignazio DP mi chiede, che macchina fotografica smartphone usi per scattare le foto che pubblichi? Ne uso diverse, però fondamentalmente la maggior parte delle mie foto sono scattate. Con la Sony A7R III ho diversi obiettivi, però quello che utilizzo principalmente è il 16-35G Master 2.8. Comunque sotto i miei video di YouTube trovi tutta la mia attrezzatura, che utilizzo per girare i video, per fare le foto, eccetera, eccetera. Foto col telefono, non ne scatto così tante, è capitato di scattarle e di pubblicarle su Instagram, non molte, ripeto, però l'ho fatto e utilizzo un iPhone XS Plus. Dennis Cala mi chiede, Dario, come reagisci di fronte a chi vuole sminuirti a livello lavorativo? Io scelgo molto attentamente le persone che frequento, tendenzialmente non frequento persone che mi sminuiscono. Se per caso mi trovo davanti a una persona che cerca di sminuirmi, tendenzialmente smetto di frequentarla. Questo è quello che faccio, sì. Direi che la soluzione migliore è evitare di frequentare le persone che cercano di sminuirti. Come reagisco? Le allontano. Tutte le persone tossiche che si lamentano, che sono negative, che ci buttano giù, che si lamentano, si lamentano, si lamentano e cercano di sminuirci perché loro si sentono sminuite, io tendenzialmente cerco di eliminarle dalla mia vita. Salvatore Lazzano mi fa una domanda molto interessante e mi chiede qual è il no più grande che hai dovuto dire per diventare chi sei oggi. Nel 2015 stavo creando qualcosa di grande, con dei grandi soci, di cui sono ancora molto amico, Alessandro Guidi e altri senior, se vogliamo, imprenditori veri, di quelli di una volta, con un ottimo, ottimo investitore, simpatico, una grande etica lavorativa. Ci ha messo in mano questo mega ufficio su un grattacielo di Milano di 300 metri quadri, disposto a darci soldi per far partire marketers alla grande, con tutto quello che poteva servire, quindi dipendenti eccetera e a un certo punto mi sono sentito sopraffatto dalle responsabilità, dalla sfida. Sentivo di non avere, insomma, ancora le capacità e le competenze necessarie per gestire una cosa di quel tipo e non ero neanche certo che fosse esattamente ciò che volevo fare nella vita. Quindi avevamo già l'ufficio, avevamo già tutto quanto e a un certo punto ho detto no, non lo voglio fare. E quello è stato un no più difficile da dire nella mia vita perché era qualcosa che era già partito, in cui ci avevo scommesso tanto, in cui avevo dato comunque in qualche modo parte della mia parola, in cui mi ci sono impegnato per 12 mesi, un anno intero, e quindi arrivare a dire no a qualcosa che già esisteva, dire di no a un finanziamento, dire di no a un ufficio Milano, dire di no a un cambiamento di vita perché sarei dovuto andare a vivere a Milano eccetera, è stato qualcosa di difficilissimo. Mi ricordo ancora che mi svegliavo di notte di soprassalto, io di solito sono uno che dorme proprio sui sogni tranquilli, e con questi attacchi di ansia perché non ero certo di quello che stavo facendo. E alla fine sono molto convinto che per quanto uno possa provare a imporsi un cambiamento, se questo cambiamento non fa per noi realmente alla fine il nostro corpo, la nostra mente, si rifiuta e quindi ho detto di no. Introfit mi chiede tutti i video che pubblichi li monti con il Mac? E questa mi sembra una di quelle domande ragazzi che uno fa perché sta cercando la scusa per comprare un Mac. Comunque a parte gli scherzi, sì li monto col Mac perché utilizzo Mac, ma guarda che Premiere gira uguale su Windows, ci sono soluzioni per Linux, e penso che potrei ottenere lo stesso identico risultato con Windows, con Linux, con Mac, eccetera, eccetera. È un ambiente, un sistema operativo che mi semplifica la vita, ma non è così indispensabile. I video che usi per montare, poi li cancelli? No, tengo tutti gli originali, ogni mese compro un hard disk esterno, adesso sto cercando di comprare un NAS perché sarebbe la cosa più utile da avere per chi fa tanti video, che quindi mi sincronizza tutti i video col web, con il cloud, e quindi mi metterò tutto lì. Però al momento, praticamente, compro un hard disk esterno al mese che lo carico con tutta la roba del mese. Monto i video, ma i file originali li tengo sempre. Damiano M. mi chiede cosa pensi di Jarvi? E io rispondo io non penso a Jarvi, non lo so. Fiordellis mi chiede da dove parto per diventare fotografa freelance? Ecco, io non so risponderti esattamente perché non sono un fotografo freelance, sono un fotografo amatoriale, ma io scatto solo per me stesso, non è il mio lavoro, io non penso di non aver mai guadagnato un soldo scattando foto. Cioè, lo faccio perché faccio collaborazioni con le aziende, quindi mi pagano effettivamente per fare un po' di product placement, ma non ho mai fatto il lavoro del fotografo. Però una cosa a livello di competenza, quello che ti posso suggerire è iscriviti a un corso online di fotografia, guarda i tutorial su YouTube, vai a un corso nella tua città, comprati una macchina fotografica, scatta il più possibile. Ma scatta tanto, scatta tutti i giorni, esci, cerca di scattare soprattutto il tipo di fotografia che vorresti intraprendere nella tua carriera da fotografa. Se vuoi fare fotografia travel, cerca di scattare panorami, cerca di studiare tutti i tutorial per fare landscape photography, se vuoi fare wedding photography, studiati quell'ambiente. Cerca di specializzarti fin da subito in modo da trovare passione e entusiasmo verso ciò che vuoi fare. Però, un'altra cosa che ti posso dire è come promuoverti. Cioè, alla fine io non ho mai fatto il fotografo, però, c'è un però, ci sono tante persone che mi contattano e mi dicono Dario, vieni a fare le foto che ti pago a questo evento, queste cose, eccetera. Cioè, ci sono persone che cercano veramente di assumermi o di assoldarmi come fotografo. Come avviene? Vanno sul mio account Instagram, gli piacciono le mie foto e dicono voglio lui, voglio lui a farmi le foto. E questa cosa dovrebbe far riflettere, anche te. Fatti un account Instagram, pubblica le tue foto, cerca di farsi che siano molto molto belle, fai crescere l'account Instagram e a quel punto potenzialmente qualche cliente ti contatterà. Oppure, se stai cercando un lavoro come fotografo e ti vuoi proporre a un'azienda come fotografa, gli fai vedere che c'hai l'account Instagram e c'era in molto grosso e a quel punto magari saranno più propensi ad assumere te, piuttosto che ad assumere un'altra persona che non ha un account Instagram o ha un account Instagram con 100 follower. Ahimè, le vanity metrics oggi contano. Non fidatevi di chi vi dice che le vanity metrics non contano per niente. Alex Premoni mi fa una domanda veramente interessante che dice Oggi, Dario Vignali, a cosa non rinuncerebbe? E vabbè, è troppo difficile questa domanda. Cioè, a cosa non rinuncerei? A tutto quello che ho fatto. A tutto, tutto. Alla mia vita. Quindi tutto. Però, se devo scegliere proprio una cosa, il senso di libertà. Cioè, per quanto possa essere felice, triste, depresso, stressato, entusiasta, super felice, ho sempre la sensazione di essere libero e questa forse è la cosa che più mi motiva nella vita, mi soddisfa, mi dà un guai, un perché, no? Ogni giorno io lotto per la mia stessa libertà, che la libertà poi non esiste, no? Completa. Cioè, non siamo mai veramente liberi. Siamo sempre soggiogati da qualcosa, i nostri pensieri, le nostre credenze, comunque il dover lavorare. Però ho sempre questa sensazione di essere molto più libero rispetto a tante altre persone. Cioè, se io un giorno mi sveglio e dico, oggi non lavoro, o oggi prendo un aereo e vado a Tahiti, lo posso fare. Se domani dico, basta, non voglio più vivere a Barcellona, voglio andare a vivere a New York, lo posso fare. Se decido che domani voglio buttarmi in un nuovo progetto di business, lo posso fare. Insomma, tutte queste cose, in qualche modo, mi danno questa sensazione di soddisfazione costante. Cioè, è, diciamo, il mio angolo di paradiso aggrapparmi questo pensiero. Quando sono stressato, ansioso, eccetera, c'è qualcosa che non va, che capita anche a me, dico, ok, però pensa che... e penso a questo. E se non avessi questo, probabilmente non sarei così... ...inscalfibile. Inscalfibile, potrebbe essere la parola giusta. Cioè, non è che sono inscalfibile del tutto. Però è molto difficile che un evento, una persona o qualcosa vadano a compromettere veramente, in maniera profonda, la mia pace interiore e il mio equilibrio. Quello sì. Fabio Vinci Guerra dice, la fetta di culo che si vede nell'ultimo vlog durante il massaggio è tattica? Mi sa che devo andare a vedere l'ultimo vlog perché non ci ho fatto caso. Non l'ho montato io. Mamme Nuova Era mi chiede, se tu dovessi iniziare ora a concentrare le tue energie in una piattaforma, quale sarebbe? Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. E poi Twitter. Instagram è una piattaforma di content discovery, quindi la utilizzerei per farmi conoscere dalle persone. YouTube è una piattaforma di content consumption, quindi dove le persone consumano il contenuto, stanno appiccicati al contenuto per tanto tempo. Cioè su YouTube tu guardi il video di una persona per 13 minuti anche, 15 minuti mentre su Instagram ti guardi la foto per 10 secondi. Quindi su Instagram attrago le persone, su YouTube costruisco un rapporto con le persone che attrago su Instagram. Quindi Instagram parlo, racconto con le stories, attrago un nuovo pubblico, faccio nuovi follower. Su YouTube cerco di costruire un rapporto con questo pubblico, cercando di pubblicare dei video lunghi ma che diano valore o che intrattengano o che ispirino. L'avete visto il video che mi ha fatto io e Paolo nel vlog di Bali in cui parliamo delle tre tipologie di contenuto che servono oggigiorno a chi si occupa di digital. Guardatevelo, insomma è molto importante. Andiamo avanti. Giuliano Quispe mi chiede cosa consiglieresti per avviare un business online anche promuovendo un tuo corso? Allora Giuliano, guarda quello che io penso è che questa sia la domanda sbagliata. Cioè la tipica domanda che la fa chi sta partendo, che ancora non ha una visione d'insieme, che ancora non ha capito che cosa vuole fare, come si fa se vogliamo anche. e prima di rispondere e porti questa domanda dovresti farti una visione d'insieme e trovare la risposta da solo a questa domanda che è molto generica. Quindi inizia ad ascoltarti tutti i podcast che ho pubblicato, leggiti da ruignali.net. Quando avrai consumato un po' di contenuto sul digital marketing inizierai a capire come si fa, quale può essere la strada che fa per te, che non posso essere io a dirtelo, quali sono le tue competenze o passioni che effettivamente possano creare un'opportunità pertenta in termini imprenditoriali. Quindi è una domanda a cui tu devi trovare risposta e tu ho appena dato un indizio sul come intraprendere questo percorso. Lara Balfre, fotografi, mi chiede con cosa registrate i video per le lezioni, tipo quelli di Denise? Dipende, perché Denise usa la sua attrezzatura e alcune volte la mia attrezzatura. Quindi perlopiù una Sony A6500 con un 10-18 della Sony e altre volte invece usa l'RX100 Mark V sempre della Sony. Fede Osmassi mi chiede lanciare un attore da YouTube, come fare? Eh, non lo so, non mi viene in mente una strategia. Forse una cosa che cercherei di fare è trovare un altro regista, wannabe regista, mettersi insieme e fare delle miniserie su YouTube in modo che straspacchino dove tu fai il regista, l'altro ragazzo ti aiuta con la regia e trovate anche un filmmaker. Quindi fate una sorta di troupe, un progetto condiviso. Andate a pubblicare, ma dovete essere veramente bravi, andate a pubblicare queste sorti di miniserie che spaccano veramente tanto, che la gente le guardi, un po' come hanno fatto tutti gli YouTuber che sono cresciuti, tipo Frank Matano, Francesco Sole, insomma tutti quelli che hanno fatto quei corti divertenti che vanno virali, eccetera, dove tu reciti, l'altro fa i video, l'altro fa la regia e a quel punto tutti e tre ci guadagnate in termini di visibilità e qualcuno arriverà un bel giorno, magari media, se ti dirà sai che c'è? Hai i numeri, sei bravo, costi poco, perché non vieni in televisione a fare qualcosina? Perché non facciamo un film, un cinepanettone insieme? Eccetera, eccetera, eccetera. È un percorso lungo, però se neanche questa è la prima idea che mi viene in mente, ve lo dico sempre ragazzi, questo format è, vi rispondo velocemente, dovrei pensarci un po' a questa domanda. Ariel Degindo mi chiede, hai mai letto la spinta gentile di Tyler? No, non l'ho mai letta. Federico Diorio mi chiede, come costruiresti una fanbase per una startup appena entrata nel mondo wedding? Esattamente bisogna capire qual è il target della tua startup, cioè non mi hai dato questa informazione, il target della tua startup è il pubblico che ha bisogno di organizzare un matrimonio oppure è la persona che vuole diventare wedding planner e vuole capire come si fa o è un servizio per i wedding planner, no? Cioè in base a questa cosa cambia tutto. Comunque, ragazzi, la strategia online è sempre la stessa, cioè se tu identifichi quello che è il tuo pubblico, il tuo target e poi inizi a produrre contenuto, contenuto, contenuto che porti utilità al tuo target e gli racconti i tuoi servizi, i tuoi prodotti, eccetera, alla fin fine questa è la migliore strategia di sempre. Poi è ovvio che ci sono mille sfaccettature e dipende dalle tue competenze in termini di copywriting e altri fattori che possono influenzare i risultati. Quindi non ho una risposta approfondita a questa cosa. Quando esce il merchandising di Marketers? Stiamo lavorando sull'e-commerce di Marketers che sarà pronto tra una settimana o due settimane. Stiamo riproducendo molti articoli perché abbiamo finito delle cose al Marketers World. Quando apriremo ve lo farò sapere all'interno delle mie stories. Roby Sfain mi chiede cosa ne pensi di tutti quelli che nel digital marketing sparano numeroni mentre il succo poi è scarsino. E ognuno ha quello che si merita. Alla fine, però. Raccale Grasso mi chiede che l'ente consigli per fare foto migliori con un Huawei. Non ho un Huawei. Chiara Chaff mi chiede consigli per chi all'inizio come digital marketer, social media marketing, SEO, eccetera, come presentarsi alle aziende. Allora, Chiara, l'ho detto più e più volte all'interno del podcast. Mi sa che non hai fatto i compiti a casa. Il punto in realtà è questo. Costruisciti dei risultati. Crea delle pagine su Facebook, su Instagram, palle crescere e poi creati un portfoglio di risultati con cui andare da un'azienda e fargli vedere che non solo hai seguito il corso di marketers o di ninja marketing o di Dario Vignali, eccetera, eccetera, ma che ci hai provato e ci sei riuscita e a budget zero sei riuscita a far crescere una pagina sui vini o su quello che ti interessa. Fai qualcosa. Creati un portfoglio, mettici dentro qualcosa che funziona. Insomma, questa alla fine è la cosa che funziona più di tutte. Leo Camp H mi chiede Hai un attestato come pilota di droni per le riprese aeree? Mi astengo. Matteo Zabbi mi chiede Dario, io mi trovo vicino Belluno per il weekend. C'è speranza di potervi incontrare oggi o domani. Ormai nel momento in cui ho letto questa domanda sono a Barcellona. Matt Weero mi chiede Puoi consigliare un tema WP per realizzare un sito WordPress in modo grafico oltre a Divi, Genesis. Io utilizzo Genesis, Framework, però graficamente non è un gran che devi sviluppartelo te poi. Altrimenti ti consiglio Elementor, ancora per you che Divi forse e poi ti consiglio anche Divi. Consigli per i primi anni di liceo? Tappati le orecchie ti so per dire una cosa che probabilmente non dovresti sentire. Cerca di fare altre cose oltre a studiare. Cioè, studi altre cose che non ti dicono di studiare. Cioè, ciò che secondo me conta oggi le vere competenze che contano più di tanto altro non te le fanno studiare a scuola. quindi è tuo compito studiartelo da solo. Quindi cerca di individuare queste competenze. Ascoltati i podcast, leggiti i libri, eccetera. Il prossimo viaggio a Bali posso partecipare? Sì ragazzi, prima o poi dobbiamo... Cioè, ci stiamo già pensando di prendere una persona e portarla via con noi. I preset che utilizzi per la tua galleria sono fantastici. Si possono scaricare da qualche parte. Ancora l'Hobby in Cold Blood non li ho messi in vendita e non li ho mai distribuiti. Quindi ci penserò se farlo o meno. Kamale Garras. Kamale... Comunque la parte più divertente di questo gioco è leggere i vostri nomi con la K Kamale Garras. Come trovare un buon team per poter realizzare i tuoi sogni e circondarsi di persone positive e competitive forse? Eh, la domanda della vita. Se fosse così semplice tutti avrebbero creato grandi aziende. Per fare grandi aziende basta trovare grandi persone e se fosse così semplice trovare grandi collaboratori, grandi persone ovviamente tutti avremmo successo. Quindi non sto a rispondere dicendo di andare a fare eventi e fare networking perché l'ho già detto in altri podcast e l'ho approfondito un po' di più. Prova ad ascoltarti lo scorso video in cui ho già parlato e dato risposta sul fare networking. Big Bang High Tech come posso contattarti per esporti un mio progetto in ambito high tech? Tendenzialmente cerco di non essere reperibile e il vero problema non è trovare nuovi progetti è riuscire a realizzare quelli che già stiamo facendo. Quindi il mio obiettivo come imprenditore è cercare di espormi il meno possibile a nuove opportunità. E il motivo è semplice. Più dissogliamo la nostra attenzione da ciò che stiamo realizzando per farci entusiasmare da altre cose che non stiamo realizzando più finiamo per non fare niente. Quindi lo dico sempre leggetevi il libro che si chiama Una Sola Cosa o Una Cosa Sola molto bello non mi ricordo l'autore comunque il concetto è semplice se state lavorando su una cosa fate quello non fate altro. a meno che non avete un'azienda o un team che possa lavorare su più cose io lavoro su Yoga Academy lavoro sui clienti lavoro sui prossimi corsi di marketers lavoro sul merchandising ma perché siamo un'azienda e possiamo gestire più progetti e ci sono dei project manager che sono a capo dei progetti non è che Dario fa tutto quanto Nikon Travel mi chiede perché sconsigli le ads solo per migliorare le vanity metrics e il motivo è molto semplice cioè se vuoi fallo se hai i soldi da buttare e far crescere il numero di follower fallo ma il punto è che uno per fare 10.000 follower ormai su Instagram devi spendere tanto in advertising allora la domanda che ti faccio è perché devi spendere per far crescere le vanity metrics quando puoi spendere per far crescere le vendite con cui guadagni e nel frattempo ti aumentano pure le vanity metrics cioè il punto è costruisciti un prodotto fai l'ads verso il prodotto o servizio a quel punto raggiungi il break even o addirittura vai in profitto quindi ci guadagni pure e comunque con le ads le persone ti scoprono e il follower te lo mettono lo stesso quindi perché devi andare a fare le ads per far crescere i follower che tanto crescono non meno magari crescono anche di più però crescono spendendo senza avere niente in cambio fai l'ads spendendo per far crescere le vendite del tuo prodotto e a quel punto crescono anche le tue vanity metrics questa è molto bella ve la leggo carmenueva94 mi chiede mi puoi aiutare ad aprire qualsiasi cosa online e beh sono il genio della lampada luigi drago mi chiede un posto da consigliare a barcellona next travel e da vedere o da mangiare e non lo so da vedere non sono un grande turista delle città cioè io ho continuato a fare il turista finché non mi sono trasferito qua poi quando ci siamo trasferiti qua io e denise abbiamo smesso di guardare qualsiasi cosa lo dico lo dico non so se dirvelo io e denise oltre a non aver imparato lo spagnolo che vabbè non abbiamo ancora visto la sagrada famiglia che siamo qua da un anno comunque il punto è che non lo so sono un appassionato dell'area qua del mare a me piacciono ad esempio Sigis che è fuori Barcellona è bellissima e se c'è bel tempo andate a San Paul de Mer che è un mare strepitoso ed è a 40 minuti in treno 45 da qua e quelli sono posti belli a me girare a fare il turista nelle città vedere i musei eccetera mi piace uno o due giorni ma poi perdo l'interesse sono un amante della natura e dell'esperienzialità quindi fare esperienze e vedere cose che mi comunicano emozioni gli edifici l'architettura mi piacciono ma fino a un certo punto detto questo ragazzi vi devo proprio abbandonare perché qua sono le 12.42 e io devo andare a mangiare qualcosa e io e Denise oggi che questa è la cosa bella di Barcellona 7 novembre stiamo per uscire a andare a mangiare in spiagge e a tentare di fare l'ultimo bagno della stagione cosa tu no? no no lo facciamo lo facciamo lo facciamo lo facciamo spero che questo è il progetto di video in cui voi fate le domande io rispondo vi piaccia e se vi piace lasciatemi un commento sotto lasciatemi anche delle domande sotto perché almeno so che continuo a farlo se non vi piace non continuo a farlo provo qualcos'altro grazie mille di avermi dedicato un po' del vostro tempo ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video un po' del vostro tempo grazie a tutti grazie a tutti